Quando riguarda gli orari invernali, siete d'accordo alla modifica, la chiusura nelle feste e la pedonalizzazione della piazza Venti a Piazza Lecarmene? Allora, la pedonalizzazione in questo momento ci lascia estremamente perplessi. Bisogna portare prima tutti gli uffici importanti per il centro di Sulmona e poi ne parliamo della chiusura e quant'altro, perché adesso come adesso purtroppo non va bene la chiusura, perché ci penalizza in tutto praticamente. Il centro storico per i commercianti così viene distrutto, ma anche per le persone che sono disabili, perché da come ho visto nel programma di attuazione del Comune viene proibito il transito a chiunque, quindi persino i disabili non possono più venire per il corso. Così come stanno le cose, se lo andate bene, per tanto tempo perché cambiare? Non ne vedo la necessità di spasare tutta una città senza un beneficio, non vedo il beneficio. Dibattito aperto e acceso sul fronte della pedonalizzazione del centro storico e sui nuovi orari della 0ATL. C'è chi spinge per una chiusura totale, sembrerebbe dalla zona sud, chi invece vuole un'apertura del centro storico perché ad essere danneggiate sarebbero le persone più disagiate come i disabili. L'Associazione dei commercianti sul buonafacentro accoglie invece parzialmente le scelte dell'amministrazione comunale e formula la sua proposta alternativa. L'Associazione, fa sapere in una nota la Presidente Paola Mazzalorzo, è contrario all'isola pedonale da istituire da Piazza 20 Settembre a Piazza del Carmine, perché a breve, proprio in quella zona, saranno aperti i cantieri per i lavori da eseguire, al Liceo Classico e a Palazzo Pretorio, che vanificherebbero il progetto di trasformare Piazza 20 in un salotto sociale. Sugli orari della ZRATL i commercianti propongono qualche modifica. Nel periodo invernale sarà avanzata l'ipotesi di adottare i seguenti orari, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 18 alle 21. Cambierebbe la situazione nel periodo estivo, quando i commercianti attiverebbero la ZRATL dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 18 alle 24. Nel periodo natalizio e pasquale, secondo i commercianti, il centro storico si può chiudere dalle 10.30 alle 24. Occaide l'associazione sul monafacentro per quanto riguarda il parcheggio a pagamento in via Le Roosevelt e via Denino, quando non è in vigore la ZRATL. L'associazione inoltre è favorevole anche a un nuovo sistema di collegamento diretto, servizio navetta, con il parcheggio di via Iapasseri e Palazzetto dello Sport con il centro storico. La proposta dell'amministrazione comunale, annunciata ad un dati giro scorso 2 ottobre, prevede invece la penalizzazione da Piazza 20 Settembre a Piazza de Carmine, la chiusura totale del centro storico dal 24 dicembre a 7 gennaio, dalle ore 18 del mercoledì santo fino alle 21 del lunedì dell'Angelo. Dal 1 ottobre al 31 maggio ZTL attiva dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 21, nei weekend dalle 18 del sabato fino alle 21 di domenica. Dal 1 giugno al 30 settembre orari diversi, 10.30.13 e 17.30 all'una di notte, ma nei weekend dalle 17.30 del venerdì fino all'una del lunedì. Su fronte dei parcheggi il Comune ha intenzione di abolirli in Piazza 20 Settembre, Piazza Minzoni, zona San Rocco, Piazza del Carmine e Viale Mazzara, introducendo i parcheggi a bacamento in Viale Roosevelt e in Viale Denino, quando non è in vigore la ZTL. Alla rimodulazione degli orari della penalizzazione e all'abolizione dei parcheggi seguirà una rideterminazione degli orari di carico e scarico delle merci, delle licenze dei taxi e dell'introduzione di un nuovo bus che passerà per il centro storico.